Siamo con Tiziano Piccioli, founder di Fedro Impresa Group, realtà che opera nel settore dell'intermediazione creditizia e della consulenza da oltre 30 anni. Negli ultimi anni il rapporto tra gli attori del credito e le imprese è molto cambiato, il vostro è un osservatorio privilegiato. Quali sono i trend più significativi a cui prestare attenzione? In effetti il mondo del credito in questi anni è cambiato molto, soprattutto perché le banche devono tutelare il proprio patrimonio, la propria capitalizzazione, quindi hanno irrigidito il proprio modello di rating e questo incide certamente sulla qualità del credito che la banca si aspetta da un'azienda. Le aziende di conseguenza oggi devono prestare molta attenzione al proprio rating bancario e devono prestare molta attenzione anche alla pianificazione strategica in quanto il sistema bancario per valutare un'azienda ha bisogno di una serie di dati tra i quali appunto la pianificazione è for looking. In una situazione di profondi cambiamenti del mercato che hanno toccato anche il settore dell'acciaio, quanto è importante la pianificazione finanziaria? Estremamente importante, questo l'abbiamo riscontrato in questi ultimi anni a seguito dell'avvento del Covid e della guerra russo-ucraina. Le aziende organizzate hanno saputo pianificare in modo corretto in tempi stretti, quelle che invece non erano abituate a pianificare hanno dovuto per l'ennesima volta appellarsi all'istinto dell'imprenditore, questo certo non è il metodo migliore anche perché non si è mai la certezza di aver intrapreso la giusta strada. Tra le altre cose anche il sistema bancario per poter valutare un'azienda, l'Eba lo impone, la banca deve guardare a quello che è l'andamento prospettico, quindi come dicevamo prima alla pianificazione for looking, non devono più le banche guardare ai bilanci del passato, sì quelli vanno bene, ma soprattutto alle prospettive del futuro. Quindi l'impresa deve adottare nuovi modelli prima di tutto per pianificare in modo corretto il proprio futuro e poi per poterlo rappresentare al meglio anche il sistema bancario. In un contesto sempre più selettivo il rating di un'azienda assume un'importanza crescente. Quali sono i fattori da tenere sotto controllo per poter mantenere la valutazione al massimo livello? È indispensabile tenere sotto controllo la propria centrale rischi, il proprio bilancio e alcuni indici in particolare. Per quanto riguarda poi il rating la banca valuta molto anche l'analisi qualitativa e anche l'andamentale interna per la quale il cliente deve cercare di operare sempre con una certa correttezza. Noi abbiamo creato proprio degli strumenti finalizzati ad agevolare l'azienda, a migliorare il proprio rating. Questi strumenti sono perfettamente tra loro sincronizzati e vanno a toccare proprio gli aspetti che io ho appena evidenziato. In tutto questo la pianificazione assume un certo rilievo perché anch'essa va ad incidere sulla qualità del rating soprattutto nell'ambito di quello che è il valore del DSCR. Come Fedro Impresa Group avete sviluppato dei servizi dedicati. Quali sono quelli che hanno riscontrato un maggior apprezzamento tra le industrie e manifatturiere? Certamente la consulenza che noi prestiamo, la formazione soprattutto indirizzata all'utilizzo del software che va a beneficio della pianificazione e del monitoraggio del rating. Abbiamo apprezzato molto anche l'interesse che abbiamo suscitato nel mondo Siderweb dove hannoveriamo clienti importanti i quali hanno apprezzato proprio soprattutto nell'ambito del software i diversi moduli che interagiscono direttamente tra loro e quindi facilitano il loro lavoro grazie agli automatismi di cui il software dispone e di conseguenza facilita quello che è il lavoro della pianificazione e il lavoro del monitoraggio legato ripeto al mondo del rating, alla analisi di bilancio e all'analisi dell'indebitamento. Quali sono invece le novità a cui state lavorando? Ci sono prodotti dedicati anche al mondo dell'acciaio? Le novità sono diverse. Oltre al miglioramento del software stiamo mettendo a disposizione delle aziende un servizio nuovo affinché le aziende meno strutturate possano avere il prodotto chiave in mano e quindi affidare interamente alla nostra struttura la gestione proprio di tutto il software. Mentre alle aziende già strutturate noi stiamo potenziando la formazione proprio per renderle maggiormente flessibili nell'utilizzo del software diversamente a quelli che già lo sono mettiamo a disposizione il software con tutte quelle che sono delle caratteristiche per le quali stiamo anche recependo i suggerimenti che i clienti ci forniscono perché noi vogliamo arrivare a personalizzare il software affinché lo stesso risponda alle esigenze puntuali della nostra clientela.